Il mio nome è Massimo Becatelli e sono il titolare dell'azienda agricola Mori Concetta. I terreni sono stati acquistati da mio nonno materno che li ha dati a mia madre che ha provveduto praticamente da zero perché i terreni hanno in completo stato di abbandono a costruire tutta quella che oggi è la nostra azienda, che è una piccola realtà, appena un ettaro e due di vigna e un ettaro e mezzo di oliveta e si è cercato tra mio padre e me di mantenere efficiente l'azienda. La svolta da un punto di vista di imbottigliamento c'è stata dopo la morte di mia madre perché l'azienda era curata da mio padre che però faceva altro nella vita e da dopo la morte di mia madre quando io ho iniziato a seguire l'azienda abbiamo iniziato a imbottigliare, quindi appena dal 2014, però con discreti successi perché quello che ho cercato di puntare io è il fatto che essendo un'azienda così piccola per poter emergere nella massa è necessario produrre un vino di alta qualità. Grazie